Quando riguarda i lavori dobbiamo distinguere i lavori sulla litorania dai lavori fatti che si stanno facendo appunto sul braccio dell'ancora per quanto riguarda la vasca di Colmaro, lì sono due questioni diverse. La prima per quanto riguarda i lavori sulla litorania quindi sul tratto di strada che va dall'ancora al porto abbiamo fatto presente con delle interrogazioni al segretario, al comandante della polizia municipale se effettivamente quei lavori sono dettati e supportati da un parere che appunto ci viene incontro se sono legittimi in termini di codici della strada perché a dire da persone esperte, da persone che appunto ho chiesto e anche mi sono reso conto personalmente con il mio gruppo insomma in certe questioni non sono per niente rassicuranti e quindi abbiamo fatto presente di questa cosa in consiglio comunale. Per quanto riguarda la vasca di Colmaro siamo sempre stati d'accordo sull'eseguire quel lavoro anche perché già in passato l'amministrazione d'Ambrosio ecco con l'assessore dell'epoca ricordo l'ingegnere senese ebbe modo di poter progettare, avere anche assenzi dalla regione per poter eseguire quel lavoro che siamo tutti quanti d'accordo. Ecco sono 50 anni, non vorrei passare altri 50, speriamo vedendo sempre lo stesso disastro. Per quanto riguarda invece l'ultima questione della polizia municipale non abbiamo capito che sta succedendo. Cioè questo è poco male sicuro perché finalmente dopo tanti anni il comune ha potuto assumere delle persone, rafforzare il corpo e il comando dei vigili urbani. Tanto diciamo una cosa tanto apprezzata dal sottoscritto ma anche da tutta la cittadina perché sappiamo che ormai molte erano andate in pensione ma il comune non poteva assumere. Sappiamo perché appunto per la questione di sesto finanziario. A oggi noi sappiamo quanto è stato utile il lavoro fatto dai vigili anche quando c'è stata l'alluvione. Cioè voglio dire alla base si è dimostrata una spesa necessaria e utile per il comune. Non capiamo perché tutta questa alternanza anche nei comandanti, visto e considerato che abbiamo una figura che ha fatto il comandante anche sotto la mia amministrazione. Sto parlando del comandante di noto che anche se è distinto nel periodo dell'alluvione. Quindi non capiamo nel volere sempre apprezzare le persone che sono state scelte oggi nel rivestire questo ruolo. Però se abbiamo delle risorse già pronte e anche capaci, il comune non vedo perché poi deve servire altre persone che deve comunque poi pagare e quindi raddoppiare a questo punto la spesa.